Vieni a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, va lì che c'è il video, vai via Eeeh, bello a tutti ragazzi, quelli che vi parla Ragazzi voi non avete idea di quanto sono, ma veramente tanto contento Ragazzi miei avrete sicuramente intravisto che cosa abbiamo tra le mani Ok ragazzi, il prezzo di quest'arma si è abbassato di non molto, ma di troppo Quest'arma molla, si viene pure a recuperare veramente poco, a poco Io l'ho recuperata quando ancora valeva un bel po' e comunque aveva ancora un bel valore bello pieno Quest'arma è molto figa, ragazzi stiamo parlando del lancia Halloween di natura Ebbene sì, come poteva non mancare a noi portatori di questa serie magnifica Delle armi moddate e non ricombussolate Legacy Come faceva a non mancarci Sicuramente in questo video non l'andremo a provare, ma andremo a parlare di quest'arma Andremo a vedere nel complesso come è fatta Sicuramente di quest'arma c'è pure l'elemento energia, sì E verrà comunque appena di nuovo succederà una roba simile Rilasciato anche quella energia Ragazzi miei, ma non siamo solo qui per mostrarvi armi Siamo pure qui per ringraziarvi Ragazzi lo sapete a quanto siamo, vero? Siamo a 10.000 iscritti anche ben superati E sono molto contento E come ben sapete, stasera live di Salva al Mondo Dove regaleremo armi E dove andremo comunque a giocare con voi nelle missioni Ragazzi miei, io sono wow Sono euforico Perché non abbiamo solo quest'arma Nel prossimo tempo, nei prossimi giorni vi mostrerò tantissime e bellissime armi nuove Che mi hanno dato, ecco Mi hanno dato e ringrazio ancora tutti quanti le persone che me l'hanno scambiate Infatti abbiamo Ah, ho visto che comunque il video del fucile all'assalto all'argon fisico è piaciuto veramente tanto A differenza del fucile all'assalto all'argon in acqua o doppio elemento fuoco e natura Questo dovrebbe essere quello che sta salendo di più Perché nessuno se lo sta calcolando Nessuno E per fortuna che il nostro inglesotto ce l'ha scambiato La prossima arma che vi andrò a far vedere sarà un bellissimo obliteratore doppio elemento Poi ragazzi non è finita qui Abbiamo pure Tenetevi pronti Lancia pallineve fuoco legacy Sicuramente non dovrò provarlo come qualsiasi arma da Da Come launcher ecco non andrò mica a provarlo E ragazzi macchina da scrivere doppio elemento natura e acqua Sono comunque un sacco di cose bellissime che vedremo nel complesso nei prossimi giorni Comunque a differenza degli altri lanci a Halloween Allora io ho l'inventario vuoto stasera il contest sto pensando di farlo oppure no Devo vedere perché non ho molto come si dice molto molte cose dovrei prendere e fare un cambio sull'altro account Adesso ve le mostro tutte guardate le differenze questo è quello come potete ben vedere Natura Questo è quello fuoco Che vabbè si vede nettamente la differenza Molto figo molto bella e molto carina come arma Ci sta con i fulmini tutti intorno è fatta veramente bene Fuoco e boom bitch Quello acqua Allora devo dire la verità io preferivo l'acqua come elemento Quando l'elemento era molto diverso Quando ero tipo sul bianco Perché sull'azzurro boh non mi piace molto Però potete vedere nettamente le differenze Ovviamente due di questi sono legacy E stiamo parlando proprio di questo legacy acqua che è il nostro solito Che ragazzi a differenza di quelli in giro che trovate anche con più vita o meno E ancora quello che vale di più Perché vi sto dicendo questo Perché quest'arma è stata craftata e non è stata tra virgolette duplicata ecco Quindi wow Cioè abbiamo ancora comunque tante cose che valgono Anzi il nostro deposito pullula di cose che valgono Nient'altro Nel corso del tempo abbiamo accumulato anche un po' di raggio Sono veramente contento perché mi servirà poi per degli scambi Da quasi mille E mi servirà per degli scambi di armi Che prima un tempo secondo me valevano un bot E adesso non valgono più una sega E spero di prenderle tutte insieme per mille di raggio Però vedo Se riesco le trovo anche prima per poco Comunque ragazzi io vi lascio nei commenti le armi che cerco Se ce le avete oppure se avete raggio corlucente scrivetemi perché sono interessato Comunque Le armi erano queste Stiamo parlando infatti del nostro lanciallowing di natura Molto figo Appena avremo quell'energia ve lo mostreremo perché in Italia non ce l'ha ancora nessuno E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Il deposito più raro d'Italia si sta sempre più evolvendo Da cinque mesi che siamo qui a farlo ragazzi E abbiamo di quelle perle che vi mostreremo pure nei prossimi giorni Vi dico il prossimo video sarà dell'obliteratore doppio elemento Dove andremo a provarlo E andremo a vederlo pure in missione E niente raga Qui da righe tutto Grazie per la visione E grazie per i 10.000 iscritti Veramente ragazzi Vi voglio un sacco di bene Bella raga